Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Roberto Borrelli di Lotto Italia Software. Oggi torniamo a parlare del mio programma costruttore di metodi. Attenzione perché ci sono anche dei pronostici. Ho trovato un metodo veramente bello da seguire, quindi chi ha il programma può semplicemente mettere in pratica questi semplici passi che andrò ad escrivere fra poco. Chi non ha il programma può prendere i numeri e giocarli almeno una volta. Poi invece chi ha il programma può ricalcolarli per le volte successive. Si gioca una sola volta e si ricalcola a ogni giro. Se volete avere qualche sicurezza in più, magari li giocate un paio di volte i numeri, però ricalcolate sempre a ogni estrazione i nuovi pronostici in modo da mettere in gioco sempre due pronostici, cioè gli ultimi calcolati e quelli della volta precedente. Perché comunque alla fine è una giocata piccolissima che si fa. Intanto qui sotto ho il musetto della mia cagnetta Lola che ci ha portato fortuna un'altra volta. A proposito avete visto il 50 a Torino di cui vi parlavo in un altro video che stava per uscire. Infatti è uscito quel 50, è fantastico. Tenetene conto perché è un numero che continuerà a sortire. A Torino il 50 si è incastrato. Seguitelo ancora. Adesso magari non lo giocate questa volta, però fra un paio di colpi di nuovo quello torna fuori. Bene, andiamo a parlare di questo programma Costruttore di Metodi. È un programma che permette di preparare metodi sommativi solo facendo tutto con il mouse. Ma la cosa bella è che poi potete andare a controllare come va un eventuale metodo sommativo e decidere quindi se tenerlo in gioco nel momento in cui vedete che ha una tendenza di sortita. Insomma, praticamente i numeri che calcola continuano a sortire nel tempo. Io non amo i metodi sommativi. Perché? Perché normalmente si trovano sui giornali. I giornali dovete sapere che sono stampati un mese prima, praticamente. O meglio, ci sono dei tempi di calcolo per cui chi collabora con i giornali deve mandare i pronostici, i metodi, uno o due mesi prima addirittura. Per cui quando voi prendete il giornale e andate a leggere che un certo metodo ha dato tanti risultati, bla bla bla, tante parole, in realtà quello è un metodo che ormai si è esaurito, non dà più niente. Invece con questo programma si riescono a trovare dei metodi che stanno andando bene adesso, al momento. In particolare, io, cioè se voi avete difficoltà a trovare dei metodi interessanti, prendete lo stesso il programma perché ogni tanto io manderò questi metodi che voi potete applicare. Sotto, chi vuole, trova il link per ordinare questo programma, che si chiama Costruttore di Metodi di Lotto Italia. Adesso è in offerta, quindi prendetelo per averlo sul vostro computer. Secondo me, fra tanti programmi che fa la costruzione di metodi, questo è il più semplice, è l'unico che si fa tutto con il mouse, non dovete scrivere niente, non dovete essere programmatori. Vi faccio vedere come si crea, come si fa questo metodo che ho ideato. Bene, dalla videata iniziale del programma, sapete che si possono aggiornare le estrazioni semplicemente cliccando questo bottoncino, si fa in un attimo e non ci sono costi per questo. Si accede alla videata di ricerca tramite questo bottone, quindi c'è questa, diciamo, è la funzione principale del programma, accedi alla videata di ricerca. Ok, in questa videata si comincia con il passo 1. Ok, eccolo qui, passo 1, quindi questa è la prima cosa da fare, cliccare su questa casellina dove c'è scritto prendi il, cosa vuol dire, prendi il primo di Bari, secondo di Bari, terzo di Bari, eccetera. Nel caso nostro prendiamo il terzo di Bari, facciamo somma, vedete che è già scritto qui sopra somma, altrimenti potrebbe essere sottrai o moltiplica, a noi lasciamo somma. A che cosa? A un numero fisso, quindi è un metodo semplicissimo, a un numero fisso 53. Ecco qua. Ah beh, scusate, non vi ho fatto vedere come si fanno a trovare i numeri fissi. In pratica non è che vado a scriverlo qui, non dovete scrivere niente qui. Vi ho detto, prendi il terzo di Bari e qui a destra posso scorrere tutte le ruote e dopo la ruota di Torino iniziano i fissi, fiss 01, fiss 02, eccetera. Abbiamo detto che io devo trovare il fisso 53. Fisso 53, cerco di essere preciso e di parlare piano in modo che capite. Bene, guardate questa scelta qui sotto. Considera il risultato un numero valido nel pronostico, questa è la nostra scelta. Altrimenti potrebbe essere non valido, ma utilizza il risultato come base del prossimo passo, cioè se praticamente io voglio fare un ulteriore passo prima di avere un numero valido, oppure è valido ma è anche base per il prossimo calcolo, quindi un numero che è già valido nel pronostico, ma in più è la base per il prossimo calcolo. No, nel nostro caso è semplicemente considera il risultato un numero valido nel pronostico. Faccio conferma e procedi. Se volessi fermarmi già qui potrei fare stop e concludi, ma facciamo un metodo di almeno 4 passi, 4 numeri. Quindi vado sul secondo passo e faccio prendi il secondo di Milano, questo, somma al fisso 69. Guardiamo un pochino, andiamo a cercare in fondo, fisso 69. Mi raccomando, non scrivetelo direttamente con la tastiera, altrimenti non funziona. Dovete proprio andare qui sotto e cliccare fisso 69. Facilissimo, no? Non ho mai usato la tastiera, ho usato solo il mouse. Bene, considera il risultato un numero valido nel pronostico. Conferma e procedi. Non mi fermo, qui c'è scritto stop e concludi, ma io non mi fermo perché se non concludi prosegui con il passo 3. Clicco questo bottone e vado al passo 3, dove farò prendi il secondo di Milano ancora, secondo di Milano e somma al fisso 89. Non è stato facile preparare questo metodo, ma vedrete che è un metodo molto molto efficace e soprattutto è attuale, sta lavorando adesso, ok? Quindi un metodo sommativo che ha dato tanti risultati nelle ultime 60 estrazioni e quindi è possibile che ancora per una decina di colpi potrebbe essere vincente. Quindi seguitelo con attenzione. Chi ha il programma lo mette in pratica, chi non ha il programma lo può mettere in pratica a mano o può giocare direttamente i pronostici per una volta, dopo se li deve ricalcolare. Chi ha il programma li calcola con un click, perché una volta finito, una volta che avremmo impostato questo metodo, si può salvare e poi richiamarlo ogni volta. Secondo di Milano fisso 89. Considera il risultato numero valido. Conferma i procedi. Andiamo qui sotto con l'ultimo passo. L'ultimo passo è quarto di Palermo. Quindi andiamo a Palermo. Quarto di Palermo, somma al numero 11. FIS 11. Conferma i procedi. Qui dice, se non concludi, prosegui con il passo 5. Posso arrivare fino a 12 passi, quindi potete sbizzarirvi e trovare metodi, tutti i metodi che volete, fino a 12 passi per 12 numeri massimo. In questo caso io mi fermo, faccio Stop Concludi. Vedete questo bottone qui? Stop Concludi. Automaticamente mi viene fuori questo riepilogo. Quindi, prendete nota di questo. Operazione numero 1. Terzo di Bari, somma al fisso 53. Sempre col fuori 90. Operazione 2. Secondo di Milano, somma al fisso 69. Operazione numero 3. Secondo di Milano, somma al fisso 89. E l'ultima, operazione numero 4. Quarto di Palermo, somma al fisso 11. Ok? Adesso, basandoci sull'ultima estrazione, la 40025, qual è il pronostico? Basta fare questo. Elabora il pronostico. Clicco. Ecco che questi sono i numeri basati sull'ultima estrazione e quindi pronti per essere posti in gioco. E sono il 24, 18, 38, 65. 24, 18, 38, 65. Per ambo eterno, si sa mai. Ok? Quindi chi ha il programma impostando questo metodo che poi lo può salvare vedete qui sopra c'è apri o salva si fa salva gli da un nome qualsiasi metodo novembre oggi è il 22 metodo 22 novembre lo salva poi spegne il computer quando riaccende apre il programma va su apri richiama il metodo ed è pronto per elaborare il pronostico. Ok? Cosa è importante in questo programma? Perché bisogna avere questo programma? Uno per fare direttamente i calcoli perché non puoi fare come nel 1918 che ti metti a calcolare a mano i numeri non ha senso insomma oggi come oggi no? Due perché costa poco in offerta il programma sotto trovi il link per fare l'ordine e tre perché per ogni metodo che generi puoi fare una simulazione di gioco vedrete che non è facile trovare dei metodi interessanti ma li potete trovare sicuramente potete pure prendere quelli dei giornali e provarli no? Io ogni tanto manderò questi metodi e quindi chi vuole chi ha il programma semplicemente li applica io ho un modo mio per trovare i metodi interessanti ok è un modo particolare che quindi utilizzo dei miei software per andare a cercare quali sono i metodi migliori e questo è oggi che vi faccio vedere è uno dei migliori che ho trovato per la ruota di Bari e adesso vedrete come ok una cosa a cosa serve questo pannellino qui sopra? calcolo il pronostico basato sulla stazione 4025 sono l'ultima quindi qui a destra non vedo alcun risultato per questo pronostico ma io posso andare indietro di una vedete qui sopra indietro di una e vedo sempre a destra i risultati quindi per esempio questo metodo applicato alla estrazione precedente non l'ultima aveva dato subito un ambo su Bari proprio vado ancora indietro ok vedete qui sopra posso andare indietro ecco un altro ambo e sono due ancora indietro e c'era un terno ok e quindi tre ambi vado indietro un ambo fuori ruota non c'entra niente ecco un altro ambo su Bari vado ancora indietro ecco un altro ambo vado ancora indietro ecco un altro ambo vado ancora indietro ecco un altro ambo ok ogni volta lui rimette in pratica il metodo e quindi calcola numeri diversi voi a ogni estrazione dovete ricalcolarli se volete li portate avanti per due colpi un po' più sicuro ovviamente non c'è la certezza però di solito questi metodi continuano a dare qualche risultato per un po' di estrazioni quindi seguitelo ok questo è un programma che secondo me vale oro vale oro questo è un programma che quando è uscito lo vendeva oltre 100 euro adesso costa veramente una sciapata come si dice in Ancona costa una sciapata prendetelo costa poco bene una cosa importante voi quando avete il programma e impostate un metodo per controllare se funziona andate in simulazione di gioco vedete qui lui cosa fa automaticamente qui mette l'ultimo pronostico no vedete però impostiamo ecco il tipo di gioco che vogliamo fare un solo colpo di gioco ricalcolare dopo il termine dei colpi previsti oppure sempre attenzione a usare questo lasciate sempre dopo perché cioè lasciate l'impostazione dopo perché se mettete l'impostazione sempre cioè ricalcolare a ogni estrazione se doveste provare come va il metodo in 5 colpi per esempio avreste diversi metodi che vengono sovrapposti nel calcolo ok perché lui a ogni estrazione se voi gli dite è valido per 5 colpi però ricalcola ogni estrazione e dopo vi si sommano invece lasciate sempre questo impostato così dopo poi lo capirete a cosa può servire questo però per adesso non vi serve credetemi anche se volete provare se funziona il metodo per 3-4 colpi lasciate sempre qui questa funzione su dopo allora nel nostro caso non c'è differenza perché il nostro metodo è valido per un colpo parti da 60 estrazioni prima rispetto all'ultima in archivio possiamo aggiungere un capogioco fisso se vogliamo per fare un controllo mettiamo che uno dice voglio sempre giocare questo metodo però mettendo sempre il 90 no nel nostro caso non c'è nessun capogioco fisso io voglio giocare questo metodo sia per ambo che per terno adesso e lo voglio giocare su Bari avvio il controllo del metodo calcolato che cosa succede il programma si sposterà 60 estrazioni prima e applicherà il metodo cioè non è che giocherà questi numeri ma calcolerà i numeri basati su quella estrazione l'estrazione uscita 60 volte fa 60 turni fa poi proverà quella fatta 59 turni fa poi 58 57 eccetera sempre su Bari vediamo che cosa succede avvio ok ha finito ci sono stati 60 casi esaminati perché a ogni estrazione ha ricalcolato 11 casi positivi 49 negativi sono usciti 13 ambi e un terno capitale investito 120 euro perché ho giocato un euro di ambo e un euro di terno il minimo l'utile netto di 1546 euro con un rendimento mostruoso di 1288 per cento va bene ma facciamo che non gioco il terno se non avessi giocato il terno cosa sarebbe successo? avvio il controllo del metodo sempre 11 casi positivi 49 negativi ma 13 ambi comunque niente eterno ho investito 60 euro o un utile netto di 481 euro rendimento dell'802 per cento questo è un metodo che funziona e che può continuare a funzionare per qualche estrazione non c'è la sicurezza perché non abbiamo la palla di cristallo però se vogliamo seguire le tendenze questa è una tendenza da seguire per dire una cosa vediamo questo metodo come funziona su un'altra ruota qualsiasi che ne so facciamo Milano guardiamo un attimo vedete che a Milano non ha dato niente un solo ambo quindi siamo in perdita totale guardiamo un'altra ruota Roma a Roma non ha dato niente un ambo un caso solo positivo vedete la validità di questi metodi che mando io non è che uno dice beh qualsiasi metodo lo faccio guardate subvenenze a zero addirittura quindi non è che qualsiasi metodo si imposta funziona vediamo Cagliari niente un solo ambo quindi la media di quattro numeri casuali se voi prendete anzi no quattro numeri casuali scusate la media di un metodo casuale prendete qualsiasi numero e sommate un fisso per quattro volte avete quattro numeri poi calcolati è di un di un caso positivo su 60 quindi niente capite che quando io vi porto un metodo che invece dice su Bari da ben undici casi positivi con 13 ambi e un utile di 481 euro è sicuramente da seguire torniamo alla biglietta iniziale i numeri più che i numeri le operazioni le avete viste se volete riguardatevi il video questo è un metodo che ovviamente è riservato a voi che vedete il video e non può essere riprodotto su nessun giornale e per nessun motivo non può essere copiato quindi è riservato a voi chi vuole il programma lo può avere quindi dopo può calcolare facilmente questi miei metodi ogni volta che li mando lo può ordinare cliccando sotto il bottoncino il link nella descrizione ordina adesso il programma che è in offerta costa molto molto poco lo potete avere sicuramente funziona su tutti i computer con windows va bene anche un computer con windows di 20 anni fa perché non c'è nessuna non c'è non è pesante per niente è molto molto leggero si fa tutto con il mouse e non serve essere dei geni del computer è facilissimo grazie e per favore mettete mi piace un saluto a tutti anche dalla mia cagnolina Lola ci sentiamo presto grazie 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 grazie